Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto categorie Best for KIDS Letto. Lettino con materasso, vari disegni e formati free wing e tempo adesivo. Best for Kids, una societ, tedesca che, stata fondata nel 2002 e ha dimostrato di commercializzazione e produzione di bambino e prodotti per bambini sul mercato europeo. I prodotti sono caratterizzati da qualit, particolarmente elevata, sicurezza e durata. Siamo tra l'altro, un produttore di culé e di nostri prodotti godono di grande popolarit, sia in patria, che all'estero. Nella produzione utilizziamo solo materiali di alta qualit, di origine europea. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.